Oddio ho vinto! Vinto! Noi il bacco a 6.30 e ne abbiamo 7 Allora, vabbè piano, piano, le mie cico Madonna, quant'è! Grazie, 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 grazie a tutti, come siamo insieme? Io non ce lo faccio più a fare video Siamo arrivati a tutti i video lo stesso giorno Devi spegnere quel coso Scusi, Fra, scusi, Fra S'ammazzo Oggi siamo qui ragazzi in compagnia di Ittano, Checca, Itt, Meritardo per fare un video sui gratta e perdi E tra una settimana questo video sarà su tutti i canali e i team che portano via Allora vorrei specificare che innanzitutto ne abbiamo comprato i gratta e vinci, soltanto scopo di creare questo video E alessio ha quasi 18 anni fa due mesi di fa quindi poi non ci abbiamo il vizio, ne abbiamo comprati 20, 20 euro Oh mio dio 20 euro, 10 euro a testo, tanto per fare il video, noi speriamo, a chi hai detto fate la vita? Ah a quelli che imponteranno, ai miei fan, no i miei fan sono anche i nostri Comunque abbiamo questi 10 gratta e vinci, abbiamo anche una doppia inquadratura, ci metterò 8 anni a di Italia A me è stata la fantastica idea di prendere 5,7 e mezzo e 5 porta fortuna Io parto col portafortuna Fran Ok io parto col 7 e mezzo Allora ovviamente spieghiamo magari per chi non conosce portafortuna devi trovare 3 importi di euro uguali e 7 e mezzo devi fare più del banco Come? Regà è difficilissimo inquadrare Una mia troppo I gratta e vinci vincenti li metteremo al 100 Quindi 3, 2, 1, via Allora io nel banco ho 500, bene già ho perso perché regà se vi piace il 500 è perso Io ho un euro 200, 20 euro Ok io qua nel banco a 5 io ho Oh possiamo vincere 20 guarda già 2 e 20 e non ho anche altri 3 Per favore 40 40 500 Oh altri 500 No No È il primo Allora io c'è un 5 Qui c'è un 2 Il banco quanto ha? Un 5 4 e mezzo ragazzi No abbiamo perso Ho straperso Bene Ok 2 sono andati 2 euro sono andati 2 euro Che ho lanciato la comunità Non lo so Adesso io ho creato un banco 7 e mezzo dai Io di banco ho 2 7 Ho perso perché non supererò mai 7 Le ho fatte e mezzo Allora io ho 2,20 e un 100 2, 4, 5, 6 6, 6, 6 e mezzo Io ho perso e vincevamo infatti 700 euro Ok ho 200 e 220 Se vinco 100 euro di più 2 2 2 2 Andata 4 euro raga Buttati 0 0 Arriva 4 euro 0 euro Manca rifasse quei 20 euro Non ne faremo ancora Porta fortuna Allora io ho detto il monte premi di 10 euro 5 Il banco a 5 e mezzo Ho perso Vi è anche Ah 1 euro Sì L'abbiamo sbancato L'abbiamo visto 1 euro Su 20 euro per ora 1 euro e vi niente Quindi va qua Il mio è perso Ah io ho 1 euro Il banco aveva 5 e mezzo e ho fatto 5 Io ho vinto 1 euro Porta fortuna 7 e mezzo Intanto stanno già finendo I dati e vincevamo solo vinto 1 euro Non comprate Allora Banco 3 5 Il banco ha 5 Io ho 2 4 e mezzo E ho perso un'altra volta Infatti vincevo un'altra volta 700 euro Raga Niente io ho 2,20 0 totale Raga io voglio 1 da 20 Questo è quale Non serve a niente Bene Ne sono rimasti 2 da grattare 2 5 Altri 5 Quindi 10 12 grattie e 15 sono rimasti E abbiamo vinto 1 euro 1 euro Su 8 8 che abbiamo grattato Vabbè Porta fortuna Il banco a 4 e mezzo 40 40 100 C'è oddio 200 Perso Madonna tu hai spartato Sono in spartato Ti ho perso 2 da 100 Ho visto questo da 10 Raga ho sbiancato Allora Portacci tua Ehi Perso Un altro perso Raga tutto ciò Abbiamo vinto 1 euro Raga comunque Come vedete Raga vinci abbiamo vinto 1 euro Questo è ancora vincente E ne abbiamo grattati 10 Ne abbiamo già grattati 10 C'è raga Dai Dai Scusati 7 e mezzo Porta fortuna Bello Il banco a 6 e mezzo Perderò 3 4 Oddio ho vinto Vinto Il banco a 6 e mezzo Noi siamo 7 Allora Piano Piano Le mie cifre Sarei pronti Che sarà Come minimo 1 euro 1 euro 1 euro E' scontatissimo E' scontatissimo 1 euro Vincenti 2 2 euro Io niente Raga Raga manco 1 euro Non è vinto 2 Ah no Raga Raga non sto vincendo Io non riesci a vincere Ok Porta fortuna Ci dobbiamo pensare a vincere Vai 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 Qua il premio è di 20 euro 70 euro Sì il cazzo 20 euro Il banco a 6 Ho già perso Abbiamo vinto 1 euro Un altro Sì 3 euro Io ho vinto 1 euro Che bello Sì Pure questo è fegge No vabbè non ho parole Raga sono rimasti 6 Cioè Abbiamo vinto 3 euro Su 20 Manca rifasse qualcosa Raga vi giuravo Prima di rinziare al video Io faccio sì Vabbè 20 euro Ventiero sì Rincevo Dai Sì Sì Aspetta proviamo a grattare uguale Vediamo se porta fortuna 100 euro 40 2 euro 40 2 euro 100 Ah abbiamo vinto 2 euro Abbiamo vinto 2 euro Che qua le ore capitano 40 40 100 120 Ma solo io ho vinto Abbiamo vinto 2 euro Regà Totale di 5 euro per ora Davvero? Sì ho vinto 2 euro Hai vinto solo tu Regà abbiamo vinto 3 No 5 euro Manca l'ultimo e quello che stiamo grattando 2 ce l'abbiamo 4 Quindi raga 7 e mezzo Il banco ha 7 Il banco ha 7 Vabbè raga 6 e mezzo 4 5 6 Perso e vincevamo 70 70 Qua 5 e mezzo 5 e mezzo Ok Vediamo 2 4 5 Perso E vincevamo 40 euro Quanto avevo vinto? Allora Su 20 grattavinci ne abbiamo vinti 4 Per un totale di 5 euro Che grandi ragazzi Io ho detto dai ho 20 euro e sei di fame L'avevo fatto già il video Abbiamo vinto tipo 70 euro Su 50 grattavinci Con questo posso dire Sprego i soldi Se volete comprare grattavinci Non comprate Non comprate Cioè Questo stanto abbiamo vinto Abbiamo vinto su 20 euro Abbiamo vinto 20 euro Abbiamo vinto tutto Alessi Io non ho vinto di via Sì Fai lo vinto di via Comunque Io spero che questo video In qualche modo vi sia piaciuto Che vi abbia fatto capire Che è inutile buttare soldi Per queste cose Tanto poi che andiamo a vedere Da 5 euro Mi compro quello da 5 Comunque Detto questo Io spero che questo video Vi sia piaciuto Che vi abbia intrattenuto Vedere noi che creiamo Delle robe Merda Orribili E niente Noi vi mandiamo un bacione Seguiti tutti quanti noi Nel socialnale Non è in questa descrizione E niente Noi vi stiamo a vedere Vi mandiamo un kiss Noi ci vediamo Nel prossimo video Ciao Che è Lo compra dei soldi No Lo compra dei passi Lo vedrai Non vedrai Non vedrai Non vedrai Non vedrai Non vedrai Grazie a tutti